Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovissimo video di Fortnite Salva al Mondo. Dopo tanto tempo siamo di nuovo qui su Salva perché abbiamo molte recessioni da fare, siamo rimosti un po' indietro e sono usciti dei bei eroi e delle belle armi nel frattempo e parleremo di queste cose qui. Oggi parleremo di due eroi, ne tratteremo due per rendere tutto il processo un po' più semplice e veloce. Ovviamente grazie al nuovo feature di YouTube ora troverete tutto quanto dettagliato se andate sotto nel mio video vedete sotto dove potete mandare avanti il video c'è scritto in che parte del video trattiamo cosa, quindi se volete passare subito al gameplay potete farlo, c'è scritto sotto quando facciamo il gameplay e tutto quanto e in questo modo vi troverete meglio anche per i prossimi video, è una cosa che faremo anche in futuro. Detto questo ora parliamo un po' di Jonesy Lupo di Mare, che è quest'eroe qui, lo trovate all'interno dello shop eventi, potete prendervelo per 2800 di oro, ne vale la pena, avete più o meno 2-3 settimane per farlo nel momento in cui uscirà questo video. Vi consiglio di prenderlo perché lui aumenta la potenza dell'onda d'urto del 55%, quindi aumenta i danni, in più se lo usate come personaggio principale fate due onde d'urto di fila. Ora questo non è molto forte, secondo me andrebbe usato come personaggio di supporto perché vi dà comunque i danni e usare due volte di fila l'onda d'urto scoprirete poi durante il gameplay che alla fine non vi serve tanto perché la usate una volta e le spingete i nemici e la seconda onda d'urto già non le c'entra più, quindi effettivamente a lui vi consiglio di usarlo in una build come personaggio di supporto e vi mostrerò subito la build. Questa infatti è la build della quale stavo parlando, vedete che abbiamo qui Renegade Milite Fulgorante, lui è molto migliore come personaggio principale e è lui che dovreste usare con questo personaggio, con John Zilupo di Mare, perché lui vi riduce il recupero dell'onda d'urto e se avete buone feste, grazie a lui potrete avere un'onda d'urto ogni 5 secondi e secondo me è meglio che usare l'onda d'urto due volte di fila e poi aspettare 15 secondi o quello che è. Quindi lui effettivamente è molto migliore, mettete lui come personaggio principale, buone feste chiaramente per ridurre il recupero, lui perché così quando perdete lo scudo vi regalano un'onda d'urto anche se non ne avete ancora caricata, lui che aumenta il range dell'onda d'urto, lei che aumenta la potenza dell'onda d'urto, pure lei e alla fine John Zilupo di Mare. Quindi questa è la mia build, ora la proveremo in missione e vedrete più o meno di che cosa è capace. Ok eccoci qui all'accampamento, perfetto. Allora, una cosa che vedrete è che l'onda d'urto mi si ricarica ogni 5 secondi, quindi ora vedete 5 secondi più o meno, ho già pronto la prossima onda d'urto e possiamo eliminare i prossimi. Ciao a voi, niente spam, Vabbè, li finiamo così. Perfetto, e l'accampamento è finito. Quindi vedete l'onda d'urto ce l'ho quasi sempre a disposizione, praticamente ogni 5 secondi. Ed è ottimo perché mi aumenta i danni John Zilupo di Mare. Ora facciamo ancora un altro accampamento e poi passiamo al prossimo eroe perché il vantaggio di John Zilupo di Mare è abbastanza semplice da capire, vi fa spammare l'onda d'urto. L'onda d'urto è un'abilità fantastica, è quello che volete. Tanti zombie, ora li buttiamo tutti indietro, aspettiamo un po' e di nuovo la nostra onda d'urto. Ecco qua. Via. Tutti tranne quelli col frigo. Quelli col frigo sono più resistenti. Quindi sopravvivono all'onda d'urto. Però tutto il resto viene scaraventato via, come vedete. Facciamo così. Ci sono via anche loro. Ora l'unico problema di questa build è che non avrete nulla per recuperare la salute. Magari se volete togliere a Zeria Clark e mettere John Zilupo di Mare. E se volete togliere su rivalista va bene. Vedete voi. Io mi trovo bene anche così con la botta di adrenalina. Di solito non riescono a ferirmi abbastanza da togliermi tutta la salute. E' fatto. Perfetto. E questi erano due accampamenti facili facili. Colonda d'urto. Praticamente che la posso spammare ogni 5 secondi. Come la minigun. La build della minigun. E' un eroe molto molto bravo. Buono. Con un'abilità molto molto buona. Quindi come ho detto prima. Vale la pena. Prendetelo e usatelo. Poi fatemi sapere cosa ne pensate. Bene. E ora passiamo al prossimo eroe. Che sarebbe Ken Fili Bustiere. Ken Fili Bustiere è un eroe che mi ha sorpreso molto. Perché è un ninja. E dai ninja mi aspetto che sono scarsi. Di natura. Perché hanno pochissima vita. E sono vulnerabili come... Mamma mia come il vetro. Li colpisci un attimo e sono... Li colpisci una volta e sono praticamente... E sono praticamente morti. Comunque sia questo eroe e questo ninja qui è molto diverso dagli altri. Perché lui ha l'abilità che praticamente il suo fumogeno riprestina interamente gli scudi. Quindi praticamente lui lancia la fumogena. Li ridà tutti gli scudi. All'istante. Quindi è instant. La cura. In più congele i nemici per 5,5 secondi. Se sono all'interno della fumogena. All'inizio. Quando lo attivate. Se lo usate solo come personaggio di supporto. Vi riprestina tutti gli scudi. Non li congela. Però va anche bene. Anche questo è più un eroe di supporto. Però io adesso lo userò come eroe principale. Questo eroe va anche bene per il re della tempesta mitico. Io lo uso con la build di Sara Archimista. In cui praticamente ho sempre la fumogena e posso curarmi a me e alleati. È una cosa molto molto utile perché durante il re della tempesta mitico uno viene danneggiato un bel po'. E non avere bisogno dei falò o delle pedane curative è una cosa molto molto utile. Quindi io a lui lo uso anche nel re della tempesta mitico quando non c'è bisogno del soldato. Detto questo però ora vi mostro velocemente la build. Che sarebbe questa qui. Ovviamente lo scambiereste con Sara Archimista. Lei vi ridà la salute. Poi avete lui che aumenta il raggio del fumogeno. Avete lui che riduce il costo energetico del fumogeno. Poi avete lui che vi aumenta la corazza. E infine avete anche lei che vi aumenta la corazza. Questo perché come ho detto i ninja sono molto molto vulnerabili. E appena perdono lo scudo sono già morti. Già lo scudo non dura molto. Quindi per questo io ho messo questi due che mi aumentano praticamente non la salute. Però diminuiscono i danni che ricevo. Questa build l'ho preparata specialmente per la tempesta mitico. Se volete cambiarla per le missioni normali mi sa che è un po' overkill. Quindi per le missioni normali potreste per esempio togliere lei e mettere qualcuno che potenzia i danni d'arma alla mischia. O magari togliere lui. Vedete un po'. Comunque sia sarà alchimista dovete averla nella build insieme a lui. Magari anche buone feste così diminuite il recupero della fumogena. Ok eccoci in missione perfetto. Ora faremo... Proveremo la nostra abilità qui contro questo accampamento. Quindi qui li raduniamo tutti quanti. Ora vedete la mia salute date un'occhiata al mio scudo. Il problema è che qui questi qui sono i zombie energia. Quindi un po' un problema. Per ora vedrete il mio scudo si riprestina instant. E vedete ho lo scudo massimo. Quindi io rinuovo la salute massima. Questo è il bello di questi eroi. Praticamente non importa quanto avete basso lo scudo o quanto avete basso la salute. Ve lo ricarica instant. Poi grazie a sarà alchimista vi ricarica anche la salute. Oltre allo scudo. E' una cosa... E' una combo veramente fantastica. E' come una botta di adrenalina ma anche meglio. La botta di adrenalina vi potenzia soltanto... Cioè vi ridà soltanto a salute. Invece quest'eroe ha l'abilità che si recupera ogni 20 secondi. Vi dà più cura della botta di adrenalina. E in più vi dà anche lo scudo. Ora proviamo contro lo smasher. Può congelare anche lo smasher. Come vedete lo congela. Ora ovviamente noi non abbiamo fatto una build apposta. Quindi non gli faccio molti danni. C'è da aspettarselo. Se fate una build apposta magari fate più danni. Quindi se volete fare quello magari ve lo consiglio. Però potete anche congelare uno smasher. In pratica tutto tranne il mini boss. Ora. Il vantaggio di questo ninja. Questo ninja secondo me è il ninja migliore nel gioco. E non sto scherzando. Perché il problema del ninja è che il ninja ha pochissima salute. Ha praticamente un filo di salute. È vulnerabile come... È delicato come un vetro. Quindi praticamente lo colpite una volta. Il ninja è già morto. E non vale niente. E questo problema c'erano tutti i ninja. Tranne questo qui. Ora vedete? Li congelo. Non sono più un problema. Ora loro mi danneggiano. Nel frattempo io mi ricarico l'abilità. Anche se perdo lo scudo non è poi... Questo granché perché... Poi vedrete che... Adesso ho dieci secondi. Intanto perdo un po' di salute. Lo sto perdendo apposta. E così adesso... Vedrete che mi recupero... Tutta la salute. Ora guardate. Sara alchimista. Loro perdono la salute all'interno del mio fumogine. Io la guadagno. Quindi praticamente in un tunnel trappola... Questa abilità qui è micidiale. E anche è l'aperto. E praticamente questa... Questa abilità vi permette di sopravvivere contro i nemici fuoco. Contro i nemici che spammano. Tipo cowboy, blaster. Qualsiasi nemico... Non può farvi nulla. È meglio della botta di adrenalina. Quindi in teoria la botta di adrenalina è sprecata. Su quest'eroe. E vedete? Loro non sono in grado di attaccarmi. Questa è la parte più bella di quest'eroe. Perché praticamente il problema di ogni ninja... È una delle ragioni per cui sono così vulnerabili. È perché le armi da mischia... Sono armi da distanza ravvicinata. Ciò vuol dire che voi colpite i nemici... Però allo stesso tempo loro colpiscono voi. Quindi in poche parole... Siete molto molto vulnerabili. Però con questo ninja li congelate. Quindi voi potete colpire loro. Però loro non possono colpire voi. Ed è questo ciò che fa questo ninja. Ed è la ragione per cui è così potente. Vi dirà tutta la salute praticamente. La ricarica dell'abilità dura 20 secondi. E praticamente i nemici non possono più evitarvi. È fantastico. Quindi vi consiglio di prenderlo dallo shop. Ora torniamo in lobby. Parliamo ancora di alcune cosette che dovreste prendere. Oltre a questi due eroi. Perfetto ragazzi. E questo era Ken Fili Bustiere. E Jonesy Lupo di Mare. Erano due eroi molto molto potenti. Che vi consiglio di prendere. Ora io vi consiglio di andare nello shop. Qui shop oggetti. Perché ci sono anche molte altre cose che dovreste prendere. Questo shop oggetti sparirà tra per meno 2-3 settimane. Quindi Jonesy Coniglia in cursore. Lo schioppo. E questi due eroi che vi ho detto. Prendeteli senza dubbio. Un'altra cosa. Nel momento in cui starete vedendo questo video. Per tipo 5-4 giorni più o meno. Ci sarà ancora il valvasore nello shop. Quindi effettivamente prendete anche questo. Perché è uno dei fucili precisioni migliori nel gioco. A me mi mancava. Quindi ora io me lo prendo. Ah no. Non me lo prendo. Perché non è abbastanza oro. Quindi io ritorno in missione. Però voi se avete l'oro prendetelo. E detto questo faremo le recensioni anche su queste due armi. Il rame schioppo. Ho già fatto la recensione. Ve la elenco qui sopra se vi interessa. E per il resto niente. Il valvasore attendete finché lo prendo. E poi faccio le recensioni anche su di lui. E poi vedrete come usare quest'arma. Comunque sì ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Ancora una volta. Vi ringrazio per aver guardato il video. E niente. Se avete qualche opinione. Sui due eroi che ho trattato in questo video. Scrivetelo nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se volete aiutare il canale. Ovviamente lasciate un like. O un dislike. Se il video non vi è piaciuto. Condividete il video. E ovviamente usate il mio codice creatore. E porionYT. C'è scritto qui sotto. Vi aiuterebbe a continuare a creare dei contenuti per voi. Che spero non vedete l'ora di vedere. E con uno di questi contenuti. Che ci vedremo la prossima volta. Detto questo però era tutto per oggi. Saluti dal vostro. È podine. Grazie a tutti